Come mai la scelta di appoggiare Federico Sborina, candidato sindaco per il centrodestra? È stata una scelta chiara e coerente, abbiamo fatto un grande lavoro per ricomporre tutto il centrodestra, quindi c'è tutta la squadra che governa insieme in Regione, Lega, Forza d'Italia, Fratelli d'Italia e un'apertura a tutte le realtà civiche di centrodestra. In cosa si differenzia la vostra lista rispetto ad altre e quali sono i punti caratterizzanti? Il voto a Fratelli d'Italia vale due volte perché è sia un voto per le elezioni amministrative ma anche un voto che ha una dimensione nazionale. Noi abbiamo un leader, Giorgia Meloni, che è un protagonista della politica nazionale e quindi siccome Verona oggi non può guardare solo ai suoi confini ma ha bisogno anche di una prospettiva regionale, nazionale ed europea, il voto a un movimento nazionale allarga gli orizzonti della propria scelta.